Domenica 10 settembre, il sole sorge alle 6.44 e tramonta alle 19.38. La luna si leva alle 22.07 e cala alle 11.11. La fase è la luna piena. Carlo Spinola, figlio di Ottavio dei Conti di Tassarolo, non si sa bene se nacque a Genova oppure a Praga, dove il padre era al servizio di Rodolfo II d'Asburgo. Trascorse la sua giovinezza ospite dello zio impegnandosi negli studi classici e nelle pratiche dell'arte cavalleresca. A vent'anni, saputo del martirio del gesuita Rodolfo Acquaviva in India, entrò in crisi di identità, che sfociò nella scelta di entrare nella compagnia di Gesù. Fece il noviziato a Napoli e a Lecce sotto la guida di San Bernardino Realino. Ebbe come compagno di studi San Luigi Gonzaga e compì gli studi filosofici e teologici, venendo ordinato sacerdote a Milano. Partì poi per le missioni in Giappone, ma il viaggio ebbe una sorta avventurosa. Una tempesta lo portò sulle coste del Brasile, poi venne imprigionato dagli inglesi che lo trasferirono in Inghilterra. La mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta. Vibraud.